L'arrivo all'aeroporto di Budapest del ministro degli affari esteri germanico, barone Fonno Oirat in visita ufficiale ricevuto dai membri del governo e dal capo diplomatico. L'omaggio al monumento degli eroi ungheresi. La residenza estiva di Kenders dove il regente ammiraglio Orti ha ricevuto il ministro tedesco. L'arrivo all'arrivo 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 all'arrivo. L'arrivo all'arrivo 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 all'arrivo. Grazie. Grazie.